e qua ragazzi buongiorno bentornati nella casa del diavolo il tringa è sempre presente ragazzi in questo video calcio mercato parliamo di tutte le zone di campo e di tutto quello che potrebbe accadere per quanto riguarda la sistemazione che qualcuno pensa che debba essere fatta per forza ma fondamentalmente il Milan crede che in questa stagione l'importanza la debbono avere i rinnovi e tutelarsi e far star bene i propri giocatori ragazzi ne parliamo nel video vi voglio bene a tutti sempre forza vecchio cuor rosso nero vai col video ciao vivo solo per te io non ti lascerò sempre con te sarò e non mi importa se io finirò nei guai unico amore se non ti ho tradito mai non esiste niente al mondo che mi porti via da te ne denuncia ne diffida io sarò sempre con te in italia e nel mondo noi saremo sempre qua forza milano mollare vince ancora per l'ultra la 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 e io canterò fino al novantesimo che fatica che ti chiedo forza mila faccio un gol e faccio un gol la curva su ti ama tutta la settimana io penso solo a te e il rosso nero unico grande amore una grande passione che sta dentro di me e io canterò eccoci qua ragazzi buongiorno e bentornati nella casa del diavolo il tring è sempre presente iscrizione campanellina pollice in su per il tringa e doppio pollice per il diavolo in descrizione team maglie calcio cliccate sul link andate su instagram e parlate in privato con francesco codice sconto tringa per fare i vostri ordini pagamenti alla consegna sempre in descrizione tringa e p 2.0 l'alternativa e la mia mail se volete delle color fare delle collaborazioni o se avete bisogno di essere sponsorizzati faccia qualità l'importante è sempre quello ma ragazzi andiamo subito a parlare di calcio mercato stamattina perché il video potrebbe venire fuori anche abbastanza lungo allora allora ragazzi prima di tutto fitto mori viene risulta negativo al tampone quindi già stamattina parteciperà all'allenamento insieme ai compagni quindi come avevo detto nello short stamattina i video che sono usciti da parte di qualcuno vengono smentiti nell'immediato a coperta e corta mancano le alternative manca questo manca quello siamo in pochi e iniziano a rientrare i giocatori quindi come sempre prima di parlare magari aspettate un attimo non svegliatevi la mattina col pensiero che avete la sera aspettate che escano fuori delle notizie delle notizie soprattutto dei comunicati ufficiali da parte del mina perché come si è negativizzato tomori potrebbero negativizzarsi anche tutti gli altri e il dato di fatto dice una cosa sola se il milan è questo senza dieci giocatori figuratevi con i dieci giocatori che mancano parte due parte seconda punto secondo andiamo al calcio mercato il procuratore riso procuratore di tonali di pellegri e di tanti giocatori del milan soprattutto nel settore giovanile era ieri a casa milan a casa milan si è parlato non solo di pellegri che sono le notizie che sono uscite su tutti i giornali il milan vuole già imbastire un discorso con sandro tonali prolung prolungamento e adeguamento di stipendio per un giocatore che in questo momento è la faccia del milan un giocatore che in questo momento dimostra a tutti quanti che la spassata stagione è stato un punto di partenza e che ha visto sandrino una fase di ambientamento sostanzialmente un sandro tonali che come tutti dicevamo soprattutto su questa canale era un giocatore da milan e l'avrebbe fatto vedere alla fine per tutti gli scettici che dicevano ah ma non rischiattiamolo di qua e di là sandro tonali è rimasto sandro tonali vi sta facendo star zitti tutti e non soltanto lui parlerei anche di leao parlerei di tanti giocatori che fanno star zitti tutti quanti un attimo dopo che parlano allora andiamo a parlare un attimino di pietro pellegri poi andremo al difensore alla fine parleremo del difensore allora pietro pellegri il milan non vuole perdere l'opzione di pietro pellegri perché comunque pietro pellegri da quello che viene fuori da quello che riesco a sapere io stamattina allora il milan crede in questo giocatore è un giocatore per il quale il milan vuole vuole provare a vedere perché le potenzialità del giocatore sono evidenti le ha già fatte vedere sono evidenti a livello fisico un giocatore importante proprio per stazza fisica e padronanza dei suoi mezzi poi chiaramente ha un sacco di problemi a livello di infortuni però questi con l'andare il tempo potrebbero risolversi quindi il milan cosa farà il milan riscotte riscatterà il giocatore e lo cederà in prestito i nomi delle squadre sono torino genoa e sandoria secondo me pietro pellegri potrebbe decidere di fare questi sei mesi più magari l'opzione per la prossima stagione al genoa al genoa che per il momento rimane in mano ad endri sefcenco e auguriamo ad endri sefcenco di poter rimanere sulla panchina del genoa perché probabilmente la partita contro di noi di coppa italia potrebbe essere il crocevia per il nostro amatissimo numero 7 l'ultimo grande numero 7 del milan quindi per pietro pellegri gli scenari sono un po questi riscatto da parte del milan e prestito immediato il milan non andrà sul mercato a rinvigorire il parco attaccanti per l'attaccante se ne parlerà nel prossimo calcio mercato estivo ora centrocampo ragazzi il centrocampo del milan non ha bisogno di essere messo a posto è vero in questo momento siamo in pochi però stiamo vedendo che comunque stiamo reagendo bene baccaio costa tornando a buoni livelli rade crunic è un giocatore che in questa stagione sta facendo vedere di potersi adattare in ogni situazione in ogni ruolo e sandrino tonali mancherà contro lo spezia ma poi rientrerà quindi per il centrocampo il milan aspetta solo la fine della stagione per poter riavere adri pobega e per capire cosa farà frank e si su frank e si le parti rimangono né più vicine né più lenta più lontane frank e si pensa di meritare uno stipendio più alto di quello che ha offerto il milan frank il mina offre 4 milioni e mezzo massimo 5 più i bonus che è una sorta di linearità di linearità con i suoi compagni tutto quello che offre agli altri il milan offre a frank e si e non capisco come mai frank e si da uno stipendio di 2 milioni e 200 mila euro non sia contenti di uno stipendio di che va verrà raddoppiato questione rinnovi teo hernandez praticamente fatto raffa leao si imbastisce il discorso con mendes ma sarà cosa fatta a breve anche se non sono giocatori in scadenza comunque il milan vuole tutelarsi e siccome quello che hanno fatto dei giocatori non vogliono che si ripeta allora il milan aumenterà lo stipendio porterà tutti i giocatori a uno stipendio di all'incirca 4 milioni e mezzo dai 4 e 4 milioni e mezzo per i giocatori soprattutto per quelli stranieri e soprattutto per i giocatori offensivi per quanto riguarda ben a ser se ne parlerà a rientro dalla coppa d'africa ma probabilmente il discorso è già imbastito da un po anche perché il milan rischiando di perdere frank e si comunque vuole tutelarsi con quello che è lo scheletro della squadra il discorso di tonali l'abbiamo fatto il milan potrebbe già imbastire qualcosa con beppe riso procuratore anche di sandro tonali daniel maldini daniel maldini potrebbe andare in prestito se arrivassero delle squadre interessate al giocatore già in questo momento probabilmente daniel maldini potrebbe uscire già adesso considerando considerando che junior messias potrebbe andare anche a fare quel ruolo e alla lunga anche frank e si abbiamo visto che potrebbe alternarsi a braim diaz la situazione vista contro l'empoli con frank e si sorta di collante fra centrocampo e attacco potrebbe ripetersi potrebbe ripetersi andiamo avanti ora andiamo al fulcro del discorso tanti tanti nomi si stanno facendo sul difensore ma come vi dico da un po di tempo il milan potrebbe anche non intervenire sul mercato in questo momento ci sono tanti giocatori che piacciono botman è il sogno irraggiungibile il milan ma soprattutto il lil vuole trattenere il giocatore perché il lil si sta riprendendo da un inizio di stagione piuttosto difficile quindi vuole cercare di trattenere i giocatori migliori che sicuramente potrebbero andare via nella sessione di mercato estiva per quanto riguarda renato sanchez ragazzi io non ho indiscrezioni sull'interessamento del milan in questo momento quindi per il momento io ve lo do come come se non c'è nessuna trattativa per questo giocatore anche perché ve l'ho detto il milan a centrocampo con i giocatori che ha potrebbe ritenersi a posto per adesso e per il futuro allora torniamo a parlare del difensore botman di allo bremer sar christiansen tanti 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 nomi io ve l'ho detto un sacco di volte al milan piace in una misura importante bremer bremer del torino quindi milan potrebbe pensare di non fare niente in questo momento e aspettare giugno per andare di prepotenza sul giocatore il derby di mercato su questo giocatore non esiste perché all'inter non interessa bremer all'inter non interessa bremer quindi il milan potrebbe avere il via libera da cairo per andare sul giocatore che chiaramente se si presentasse un'offerta di una squadra come il milan non direbbe di no cairo chiede all'incirca 25 milioni probabilmente il milan potrebbe già opzionarlo adesso o comunque iniziare a parlare per imbastire un discorso che poi verrà effettuato a giugno attenzione che nella trattativa il milan potrebbe mettere il prestito di un'altra stagione di pobega oppure potrebbe offrire il prestito di gabbia potrebbe offrire il prestito di gabbia che potrebbe a due situazioni gabbia allora potrebbe o se il milan prendesse un difensore in questo momento andare in prestito alla samp che sta cercando un difensore centrale e quindi fare una sorta dare una sorta di possibilità come quella data a caldara un caldara che attenzione adesso ve ne parlo perché il milan potrebbe anche pensare qualora come pensiamo tutti come vogliamo tutti rinnovasse romagnoli di far rientrare caldara come quarto e di mandare gabbia in prestito nella prossima stagione quindi le opzioni per gabbia sono due o un prestito al torino in contropartita a bremer oppure rientro di caldara perché attenzione l'opzione bremer diventerà importantissima e fondamentale se romagnoli non dovesse rinnovare ma siccome si sta imbastendo anche il rinnovo di romagnoli milan sta parlando l'offerta l'ha fatta romagnoli per il momento è molto concentrato sulla stagione quindi ancora non ha dato risposte ma romagnoli vuole restare al milan e dubito che per romagnoli arrivino offerte superiori a quella cifra quindi se romagnoli deve scegliere con la stessa cifra presumo rimanga al milan perché la prossima stagione per romagnoli potrebbe essere veramente importante simon chier rientrerà ma simon chier avrà un anno in più l'importanza di chier non la mette in dubbio nessuno ma fisicamente simon chier dovrà riprenderci da un infortunio cosa a cui non è abituato perché simon chier non ha mai avuto infortuni importanti come quello di adesso quindi vediamo il milan vuole trattenere romagnoli e lo sta facendo a tutti i costi chiaramente l'ingaggio di romagnoli anche romagnoli deve andare incontro al milan le parti si incontreranno prima della fine di gennaio quindi potremmo avere anche una risposta prima della fine di gennaio il milan non ha messo un out out però manca poco perché il milan comunque vorrebbe una risposta da romagnoli per gennaio se non avrà la risposta probabilmente il milan inizierà a imbastire un discorso proprio per bremer che è il giocatore di cui vi parlo da più tempo perché il milan vorrebbe veramente un giocatore già abituato e pronto alla serie a perché alla fine tutti gli altri giocatori è vero che arrivano da squadre importanti però è anche vero che la tattica delle difese di serie a è tutta un'altra cosa è tutta un'altra cosa il milan pensa anche al dopo tatarusanu quindi mirante potrebbe diventare il futuro secondo portiere del milan attenzione anche a questo discorso situazione terzino sinistro anche lì allora la stagione di ballotture è stata sufficiente assolutamente sufficiente però il milan potrebbe pensare non adesso ma a fine stagione di manda di riscattare ballotture di mandarlo in prestito e vedere di riuscire a portare sulla sinistra un giocatore che vada comunque a dare un'alternativa molto valida a teo hernandez magari si penserà a uno svincolato magari si penserà a uno svincolato vedremo per quanto riguarda l'attaccante ragazzi colomuani eintracht francoforte praticamente tutto fatto kaladzic è un giocatore che piace al milan e vediamo ma ieri vi ho detto vi ho parlato di un nome che non ha riscontri mediatici ma che nell'ambiente milan circola spesso e circola da un po di tempo e sto parlando di patrick chic un giocatore che amaldini e massara piace da un po di tempo quindi patrick chic potrebbe rientrare nei in quei giocatori che interessano al milan perché il milan chiaramente ha un tacquino dove ci sono tanti giocatori segnati però poi va a fare una cernica di giocatori ragazzi io ve lo ripeto per l'ennesima volta intanto come si chiama vabbè giocatore del river play adesso non mi viene in mente il nome scusatemi l'ho appena guardato non mi viene in mente non è un attaccante non è una prima punta non è la prima scelta del milan anche se probabilmente incontrerà il procuratore domani probabilmente domani ci sarà un incontro col procuratore del giocatore di proprietà del river played che è anche una clausa rescissoria che all'incirca una ventina di milioni vediamo però il milan cerca un attaccante completamente diverso vuole un giocatore che riempie l'aria non ha bisogno di un numero 10 perché comunque si tratta di un giocatore che può fare la seconda punta questo non è proprio una scelta legata a un vice a un futuro giocatore che prenderà il posto di zlatan ibrahimovic quindi il giocatore deve essere un certo tipo di giocatore deve avere comunque dei parametri abbastanza importanti io dubito che il milan vada a prendere un giocatore che arriva dal sud america e che il passaggio fra il calcio sud americano e quello europeo è un passaggio importante probabilmente il milan vuole un giocatore già pronto che arrivi già dai campionati europei ragazzi ve l'ho già detto un giocatore che fa 20 gol in italia deve fare 30 nei campionati esteri kaladzic patrick chic sono nomi che circolano l'ambiente milan ma vediamo è un discorso che sicuramente si riporterà a fine stagione il milan in questo momento sta pensando solo e soltanto ai rinnovi se ci sarà qualche opportunità di mercato verrà presa in considerazione però non aspettiamoci grandi cose ragazzi attenzione perché ci sarà un'altra assemblea di lega per capire subito come sarà il proseguo della stagione il picco di positività dovrebbe essere raggiunto in questi giorni quindi le due giornate con la limitazione agli ingressi allo stadio potrebbe fermarsi cioè potrebbe fermarsi lì però vediamo un po quello che succederà intanto si registra un dato importante il 98 per cento dei giocatori di serie a sono ora vaccinati quindi i protocolli devono cambiare perché il calcio deve andare avanti e un virologo piuttosto importante esperto anche di virologia nello sport dice che questo virus comunque deve essere deve iniziare a trattarsi come un virus normale ragazzi se ci sono i sintomi ci si ferma se non ci non ci sono i sintomi il giocatore va avanti dobbiamo iniziare a trattare soprattutto questo ceppo di virus in maniera diversa perché la variante delta è pericolosa ma la variante omicron si sta dimostrando un'influenza che può dare o non dare sintomi è inutile tamponare tutti quanti se ci sono i sintomi si va si ci si ferma se non ci sono i sintomi si va niente ragazzi il video finisce qui vi voglio bene a tutti e sempre forza vecchio cuore rosso nero ciao oh 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 oh